Il primo gol arriva dall'Uzbekistan, Eldor Shamurodov La palla recuperata ancora, Favilli va sul fondo, la palla va a terminare in rete e c'è il raddoppio da parte di Favilli Il pallone ancora per Favilli, autore del secondo gol, tenta una grandissima, eccezionale risposta e poi c'è il gol, Flavio Bianchi Rientra e mette la palla nel mezzo, arriva dalle retrovie e il Genoa segna il quarto gol Ancora Flavio Bianchi In becca molto bene in aria, bello l'assist e poi il gol Molto bello l'appoggio da parte di Alexander Buxa e il pallone per la terza marcatura del Grifoni Grazie a tutti